Buongiorno a tutti. Oggi è martedì 20 settembre 2022, sempre nella venticinquesima settimana del tempo ordinario. E oggi la Chiesa ricorda nella preghiera la memoria del martirio di una prima comunità di vita cristiana in Corea. La si ricorda come la primavera della Chiesa coreana, sorta alla fine del XVII secolo, dal fervore e annuncio soprattutto di persone laiche, non c'erano neanche sacerdoti in quel tempo. Sono arrivati dopo, grazie all'aiuto della Chiesa francese. Si ricordano in maniera particolare le persecuzioni di 103 santi martiri, avvenuti tra il 1839 e il 1867, tra cui il primo prete coreano, Andrea Kim Tae-gon, grande pastore d'anime, e l'apostolo laico Paolo Chong Ha-san, e poi tutta una comunità intera, uomini, donne, famiglie, vecchi, giovani, bambini, associati al martirio. Invochiamo lo Spirito, allora, con una preghiera della Beata Elisabetta della Trinità, che era una grande mistica di fine ottocento, morta giovanissima, che ci ha trasmesso la sua esperienza di intima comunione con le tre persone della Santissima Trinità. I suoi tre, come familiarmente lei diceva, con cui aveva un legame profondo. O Spirito d'amore, scendi sopra di me, rendi la mia anima immagine vivente di Gesù, perché egli possa rinnovarvi tutto il suo mistero. O miei tre, Padre, Figlio e Spirito Santo, immergetevi in me perché io mi immerga in voi, in attesa di venire a contemplare nella vostra luce l'abisso delle vostre grandezze. Amen. E ascoltiamo ora il Vangelo, sempre dal Vangelo di Luca, capitolo 8, versetti 19-21. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro, mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Allora, questa scena del Vangelo di oggi, della madre e i fratelli che cercano Gesù, la troviamo in tutti e tre i sinottici, ma solo in Luca, inserita in continuazione con la parabola del seminatore e della lampada, del lampadario che abbiamo ascoltato ieri e che ci ha aiutato a fare attenzione a come ascoltare la parola di Dio, perché essa diventi vita e trasformi il discepolo per essere sempre più luce di Dio e non luce di se stesso, che è sempre la grande tentazione del peccato originale che ci portiamo tutti dentro. Luca inserisce a questo punto la scena della visita dei parenti di Gesù che lo cercano e lo vogliono incontrare, ma fanno fatica a entrare, a vederlo, ad avvicinarlo, perché lui è accerchiato dalla folla, che è lì, secondo Luca, per ascoltarlo e seguirlo. È la folla che in Luca è direttamente collegata alla parabola del seminatore, è quella che ha maturato un cuore bello e buono, capace di trattenere il seme della parola di Dio e farlo fruttificare. Per cui paradossalmente la madre e i fratelli di Gesù sono gli estranei, sono gli stranieri, per cui devono chiedere il permesso per vederlo. Marco, nel suo Vangelo, fa capire che in realtà Maria e i fratelli erano preoccupati per la nomea che Gesù cominciava a avere nella bocca di farisei e dei giudei, tanto che anche loro dubitavano per i gesti non convenzionali che andava facendo. Era fuori di sé, tutti dicevano, e rischiavano di pensarlo anche loro. Ed erano forse andati lì con l'intento di portarselo via, di proteggerlo, di custodirlo. Una reazione umana comprensibile che Luca, dicono alcuni eseggeti, non fa intravedere per una sorta di riverenza e rispetto verso la madre del Signore. E da qui capiamo che nella sequela di Gesù ognuno deve fare il suo cammino senza scorciatoie e favoritismi. I parenti possono essere Israele per Luca, ma anche i cristiani battezzati, non praticanti per noi oggi, devono entrare in questa folla di discepoli, che per loro sono gli estranei, ma in realtà sono i veri parenti di Gesù. È la chiesa pellegrina in Luca, la chiesa in cammino. Questi suoi che stanno fuori e desiderano vederlo, siamo in realtà tutti noi, invitati ad entrare più in profondità in questa parentela, attraverso l'ascolto obbediente, perché ascoltare la parola serve per fare la volontà di Dio. E questo lo precisano bene in questa scena sia Matteo che Marco. Perché questa cosa di ascoltare la parola non per se stessi, per cullarsi, ma per fare la volontà di Dio, cambia radicalmente la posizione conquistare di fronte a questo mistero. C'è un'adesione profonda che diventa vita nuova. Allora possiamo dire che il fine della parola di Dio è quella di renderci madri e fratelli di Gesù, come Maria. Il credente nei confronti del mondo è chiamato ad accogliere e generare Cristo, perché sia la maternità che la fraternità non sono fondate sulla carne, ma sulla parola di Dio, che è padre di misericordia. E la misericordia, sappiamo, ce lo ha ricordato benissimo Papa Luciani, sono le viscere materni di Dio. E come ciascuno è chiamato a diventare madre di Gesù nell'ascolto, perché solo ascoltando si è generati e a sua volta si genera, così tutti siamo chiamati ad essere fratelli di Gesù per fare ciò che si è ascoltato. In realtà è la capacità di fraternità alla cartina di tornasole dell'ascolto della parola di Dio ed è la cartina di tornasole dell'autenticità del cristianesimo stesso. Ecco perché la Fratelli Tutti di Papa Francesco insiste su questo. E mi viene un brivido accogliere questo Vangelo proprio oggi con il Vangelo della Messa Feriale Ordinaria per ricordare il sangue dei martiri coreani e con loro il sangue di tutti i martiri. E la Vergine Maria è il modello che Luca offre a tutta la Chiesa per come accogliere e rispondere alla parola, per rispondere in pieno al grido che troviamo nel versetto 18. Guardate dunque a come ascoltate e chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Usiamo allora un'immagine, una delle annunciazioni del Centro Aletti che comunica bene ciò che abbiamo appena ascoltato, come l'Evangelista Luca ci presenta l'ascolto della Vergine Maria. Vediamo in questa immagine che si rifà ai canoni anche ortodossi e bizantini dell'Annunciazione. Vediamo subito che oltre alla presenza dell'Angelo e della Vergine l'elemento più importante della scena è il rotolo di pergamena che lega l'Angelo che annuncia e Maria e che richiama questa pergamena la parola antica che era in principio presso Dio. In principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Una tradizione antica infatti dice che Maria ha concepito attraverso l'orecchio, ha ascoltato così tanto la parola di Dio che questa cominciò ad abitare dentro di lei e a incarnarsi. E questo legame iconografico tra il rotolo della parola e il corpo di Maria ci mostra il passaggio dalla parola alla contemplazione del volto, dall'ascolto alla visione. Prima la parola di Dio poteva essere solo ascoltata, ora la possiamo anche vedere e toccare perché tramite Maria si è fatta volto, si è fatta corpo. L'altro elemento iconografico che attira la nostra attenzione, se ci facciamo caso, è il gomitolo che Maria tiene nelle mani. Il gomitolo è apparso nell'iconografia mariana in collegamento col racconto dei Vangeli apocrifi, secondo cui Maria all'ora dell'Annunciazione stava tessendo la porpora per il velo del Tempio. Il filo rosso-porpora era il più pregiato dei fili e sembra fosse proprio toccato a lei tra le cinque vergini scelte per fare questo ed è simbolo di regalità riservata solo a tessere per gli imperatori e usato per esprimere il sangue della passione di Gesù. Questa tessitura di Maria ha un profondo significato teologico in realtà perché il vero Tempio di fatti è il corpo di Cristo. Maria dunque tesse la porpora per il corpo di Cristo intreccia la carne per la parola di Dio. Di solito tiene il gomitolo sul crembo, vicino all'utero, perché proprio lì Cristo riceve il vestito del corpo, cioè la natura umana. Ed è bello ricordare che la tradizione siriaca chiama Maria la tessitrice, la grande tessitrice, colei che tesse il corpo al verbo. Cristo che da lei riceve il vestito, l'umanità per istituire ad Adamo il vestito di gloria e di luce che aveva perduto con il peccato. E allora finiamo con la preghiera di questa mattina. Una preghiera per intercessione della Vergine Maria. Benedetta sei tu, o Vergine Madre di Dio, e benedetto il frutto Gesù, verbo della parola eterna, che ha trovato accoglienza nel tuo crembo per essere donato per sempre su ogni altare del mondo. Rendi, o Vergine, la Chiesa sempre più madre di figli di Dio, liberi e gioiosi di annunciare e testimoniare là dove vivono e sono chiamati, l'amore con cui sono stati amati e salvati. Aiutaci, o Madre nostra, sul tuo esempio a tessere relazioni di fraternità nuove, ovunque siamo, rivestendo con la luce e la speranza di Cristo gli smarrimenti e le sofferenze che incontriamo. E anche oggi ci auguriamo una buona giornata con la benedizione finale. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.